ciao ragazze bentornate sul canale ragazzi oggi vi parlo di un prodotto avon quindi andrò a recensire le new perfect skin daily skin boosting splash il prodotto è questo come vedete è ampiamente usato il pack è delizioso la profumazione è pazzesca molto fresca molto rinvigorente perché vado a recensire questo prodotto oltre al fatto che come vedete ne ho utilizzato molto quindi una recensione di utilizzo perché per l'ennesima volta parlando con alcune presentatrici barra anche clienti è un prodotto che causano un poche confusioni in merito al suo utilizzo innanzitutto dietro la descrizione lo sintetizza in modo molto rapido come un trattamento booster per uso quotidiano questo prodotto io lo sono andato a cercare l'ho trovato in campagna 12 non in campagna 13 quindi comunque per la maggior parte delle presentatrici ancora acquistabile da questa campagna quindi per voi clienti a meno che non vi troviate in zona guida il prodotto appunto lo troviamo sul catalogo di campagna 12 in offerta eccolo qua appartiene è andata a sostituire una vecchia linea della dell'avon che era quella per la fascia di età tra 25 e 35 anni eccolo qua lo trovate proprio qui riportato in alto sul catalogo il catalogo testualmente dice pelle energizzata in soli 15 secondi risveglia la pelle in un solo splash trattamento multiazione formulato per 1 dare alla pelle un istantanea esplosione di vitalità 2 rivelare una pelle radiosa morbida e dall'aspetto più giovane 3 rifinire l'aspetto della pelle in termini di grana tono e pori io mi vorrei concentrare su questo ultimo punto il prodotto intanto innanzitutto va utilizzato prima della normale beauty routine quindi se voi mettete una crema giorno barra una crema notte la sera prima di andare ad applicare la vostra crema abituale quindi subito dopo la detersione mettete un pochino di prodotto sul vostro dischettino di di ovatta io almeno faccio così trovo che ci sia meno dispersione di di prodotto lo tamponate su tutto quanto il viso ed il collo i 15 secondi sono per l'assorbimento del del prodotto dopo di che il prodotto viene assorbito dalla pelle potete tranquillamente andare a mettere la vostra crema al di sopra del del viso questo va andrebbe fatto sia di giorno che di di sera io non ho tanto tempo la mattina è rapidissimo quindi ho cominciato ad utilizzarlo inizialmente lo utilizzavo solo la sera quando avevo più tempo perché ho cominciato ad utilizzarlo anche di giorno perché il ho visto che effettivamente il prodotto era molto efficace mi vi dicevo mi soffermo sull'ultimo dei quattro punti indicati perché se l'istantanea esplosione di vitalità piuttosto che la pelle radiosa morbida sì ma radiosa magari non si nota quello che noterete utilizzandola con continuità nell'arco del tempo è sicuramente un miglioramento dell'aspetto in termini di grana e tono e pori in modo particolare a me sui pori ha veramente avuto un effetto erano anni che nonostante il clarisonic nonostante tanti altri prodotti questo ha avuto veramente un effetto pazzesco gli ho notati proprio migliorati nell'arco di diverso tempo comunque perché ne basta pochissimo quindi considerate che per portare la boccetta a questo quantitativo è 125 millilitri il prodotto l'ho utilizzato l'ho utilizzato veramente tanto a me è piaciuto tanto e ha veramente mimetizzato i pori mi mi trovo una pelle migliore rispetto a quando ne ho cominciato l'utilizzo è un prodotto che però come vi dicevo causa un pochino di confusione sia nel momento in cui andrebbe applicato durante la routine sia sul fatto che sia stata appunto inserita nella linea perfect skin che vi ripeto quella di 25 35 anni in realtà questo è un prodotto che voi potete assolutamente anzi dovete assolutamente consigliare alle vostre clienti o se siete clienti avon non l'avete ignorato perché non vi ritrovate in questa fascia di età è assolutamente un prodotto che può entrare in qualsiasi beauty routine soltanto che eventualmente se ragazze più giovani dopo l'utilizzo di questa crema continuo di questo scusatemi di questo booster continuano con una crema della stessa linea quindi della perfect skin chi sarà più avanti con l'età utilizzerà la platinum chi sta in una fascia intermedia userà l'ultimate o qualsiasi altro tipo di crema questo per appunto dire alle mie colleghe e anche alle clienti che è un prodotto assolutamente aperto a qualsiasi fascia di età non limitatevi a pensare che sia soltanto per chi appartiene alla fascia adatta alla perfect skin questo è l'unico l'unica nota che vi voglio segnalare perché ho notato che veniva appunto bypassato se si parlava di clienti di età un pochettino maggiore considerate che io comunque ne ho 36 quindi già starei fuori alla fascia perfect skin il prodotto in campagna 12 è 6,99 se non ricordo male ve lo dico subito quindi approfittatene perché poi sulla 13 non c'è e non so se ritorna sulla 14 ma la 14 è quella di natale quindi forse all'interno di qualche set si vi confermo il 6,99 e tra l'altro è uno dei prodotti che dà accesso al famosissimo set new che vi ho fatto vedere più e più volte che è questo qui quindi acquistando quella 6,99 aggiungendo 5,99 potete portarvi a casa questo bandidio questo è quanto io vi ripeto ve la straconsiglio fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha provato come vi siete trovate prima di chiudere il video scusate l'ultima l'ultima cosa l'unica nota ci sono sono presente a me stessa perché me lo stavo dimenticando il prodotto l'uniche persone a cui lo sconsiglio è se avete delle clienti o siete delle persone particolarmente sensibili all'alcol perché è alto nell'inci è ovviamente la sostanza che permette al prodotto di essere assorbito rapidamente di asciugarsi rapidamente però è alto quindi la percentuale di alcol c'è se siete particolarmente sensibili all'alcol assolutamente no però se non vi crea nessunissimo tipo di problema potete e dovete acquistare questo booster grazie per aver seguito il video un bacio alla prossima